eccoci siamo ritornati e ho dovuto riavviare il computer perché a volte il joystick si buga me lo legge come numero 2 e non numero 1 e quindi come avete visto già dalla live precedente non riuscivo a giocare e quindi è impossibile giocare con... no non è impossibile, è difficile visto che ho iniziato questo gioco con joystick, giocarci con mouse e tastiera cioè è complicato colpire la palla poi andiamo a colpire pure con il mouse e tastiera ci vogliamo proprio male però è molto più veloce con il mouse e tastiera però i tasti non c'ho voglia allora non sto in compagnia di minipiote oggi quindi sto da solo noi siamo blu dobbiamo segnare la porta arancione ok ci siamo ahia mi ha fregato quello allora prima che ci riprendo un po' a mano cavolo allora allora Grazie a tutti Cavolo E' lo streamrider Allora andiamo a fare sto collasso Allora andiamo a fare sto collasso Cavolo Che mi son mangiato guarda Che mi son mangiato pure quello che mi fanno Ecco ho mangiato con sto dito Ci sta Quanto so scarso sto giochetto E' difficile però E' difficile giocare l'altro gioco Eh vabbè Allora io sto giocando proprio con un pipone allucinante Allucinante sto giocando Con un pipone allucinante Allora andiamo a fare sto collasso 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 Ah vaffanculo Ormai due secondi che vuoi fare Andiamo vediamo se riusciamo a entrare dentro una partita Con streamrider basta Faccio quest'ultima partita Facciamo un paio di partite Vediamo se riusciamo Se non abbiamo il numero due Ti butta dentro partita a cazzo Perché a sto punto è meglio fare uno contro uno Uno contro uno non classificate è meglio Se dobbiamo perde Allora a sto punto perdiamo per colpa nostra No per colpa degli altri Evan ok Vai Evan Ciao Grazie a tutti Cavolo l'ho lisciata Girava come uno scemo Nooo Sbaglia tutto Io ho fatto fa Nooo Cazzo Nooo 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 Mi ha tirato una caracca Ah io ho fatto fa Un gol Lucky Sniper 2008 Grazie del follow Oh thank you for follow Allora Allora Mi sono mangiato un gollazzo Nooo 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 Sbaglia tutto Vuoi giocare con me? C'hai un account epico? Guarda non sono fortissimo Da aspettare il campione Perché Ci ho giocato veramente poco Dove ho le prime armi Proprio Eh vabbè Mi sbaglio pure a saltà Uh Ci abbiamo un minuto Comunque se mi dai il tuo account epic Ti aggiungo appena finita la partita Cavolo Mamma mia Sventa il gol Devo andare a pareggiare Oh 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 Va a pareggio Va al pareggio Attenzione No vabbè Ma perché faccio ste cazzate? Faccio ste cazzate allucinanti Allora Cerchiamo di non fare altre cazzate Eh? Ok Di lato Mi raccomando Mamma mia Ho risbagliato di nuovo E la va a chiudere Al 6 A 40 A 40 secondi Dalla fine 6 a 5 Però ha tutto ancora Ballo Può segnare tranquillamente Lui eh Che io sono una pippanata Quindi Guarda Non manco lo guardo Manco lo guardo Attenzione, tenta il tutto per tutto Alla fine Ma non ce la fai Va a vincere Credibilis Babapia Vabbè, il progetto del drago Vabbè, diciamo che uno contro uno Non è male Non è male Non è male Allora Luke, ti aggiungo Non so, è veramente palloso Perché giochi da solo Non ti danno modo di sceglierti qualcuno dall'inizio Ho provato prima a giocare E non parti sempre dentro la partita Stai 6 a 0 Vabbè, che divertimento ci trovi 6 a 0 Allora, vai, ti ho aggiunto Ti ho inviato l'amicizia Spero che ci sei ancora Ci facciamo una partitella 2 anche per 20 minuti Ci abbiamo Sì, è arrivata Ecco Ecco, ti vai Ti invito nel gruppo Perfetto Ci facciamo un duo al volo Possiamo fare anche l'evento Non lo so Come vuoi tu Di solito il duo è quello che faccio quasi sempre con mio nipote Tu un po' più bravo di me Io un po' scarsino sono Non ci ho mai giocato Quindi normalissimo Normalissimo Quindi non ti aspettare cose che la tratti Sniper Vado io Oh Avevo finito il turbo Se no l'avrei spinta dentro Ma Sono riuscito a metterla in mezzo Poi ci hai pensato tu Grande Oh oh Grande Che hai parato Non sto partito Pensavo che partivi tu Che stavi di lato Invece no Stavi dietro a me Vabbè Scusa Scusa Eh ma tu voli in aria proprio Io volare in aria ancora non Non ci ho preso Non ci ho fatto la mano Ops Questi sembrano abbastanza bravi Non pippe come me Oh mio dio ma che cosa hai parato Liscio Eh non vedi Non riesco a prenderla in aria Non riesco ancora Devo prendere Adesso prende ancora le misure Ah me l'ha tolta No l'ho lisciata Eh non c'è il turbo Oddio scusa Oddio scusa Mi sono venuto addosso Eh guarda Dove mi ha mandato Non so neanche Come ho fatto goal Ma come ho fatto goal Vabbè Oh mio dio Oh mio dio E dai entra Che cavolo Eh stavo troppo lontano Troppo lontano Che sfiga Buono Hai fatto tutto da solo Cioè siamo stati Una partita intera A cercare di far goal Adesso tutti Hanno abbandonato Ristartiamo direttamente Da capo Dall'inizio Sei bravissimo comunque Eh io sono Una pippaccia Allucinante Dall'inizio Dall'inizio Grazie. Grazie. Non lo so che ho fatto. Non lo so che ho fatto. Però l'importante è che abbiamo fatto gol. No, no, sei tu forte. Io sono scarsissimo, però non ci ho mai giocato. Lancia sta. E' bravo questo. Questo come mi ha evitato? Ecco il gol, però. Così ve imparate. E' spettacolo. No, 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 no. Mamma mia. Non ci sentono. Non la devono giocare. No, 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 no. Oh, alta. Oh, alta. Grazie a tutti Ma c'è lo scopo Io capisco che è segnare Però dai rimbalzi Io ho capito che la palla è sempre meglio Non metterla al centro Mai, mai mettere al centro Questa cavolo di palla E loro che fanno? Non fanno altro che metterla al centro Dove è più facile colpirla? Al centro Guarda che gli hai fatto Andiamo va Tira, 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 tira Oddio, t'ho preso, scusa Oddio, io ne ho fatto un altro 6 a 0 Stiamo vincendo Salve, se noi siamo Se noi dobbiamo scarsi Questi sono più scarsi di noi Che spettacolo Abbiamo fatto 3-3 goal Incredibile Tu hai fatto 4 tiri Io ho 2 tiri solo Ho fatto 3 goal Come ho fatto a fare 2 tiri e 3 goal Non si sa Vabbè Vabbè Giuro questa me la devono spiegare 2 tiri, 3 goal Come ho fatto? Dai, facciamone un'altra Facciamo l'ultima Perché di solito Stacco verso Le 7 e mezza Che spettacolo Vai Dove sei? Non ti vedo Ah, vai tu, vai tu Non ce l'hanno fatta fa Vabbè Mettiamo pronto Vado al bagno Arrivo subito Vado al bagno 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 Eccomi, eccomi. Che cosa è successo? Allora, vi facciamo gioca. La dimensione del gruppo è cambiata. Ah, sei uscito? No, aspetta, ti rinvito, va. Una luce. Sei? Ritrovamento del mercato nero? Non so neanche che roba è. Ritrovamento del mercato nero? Non so neanche che roba è. Si è molto rara. Ma io pensavo che era... Va bene. Sei andato via? Ma non ritorni più? Allora, che... che mi ha notato? Non ho notato una nota nuova? Non ho... Proviamo questa. Voglio provare questa macchina qui. A me piace tanto la fibra di carbonio. È bellissimo. Allora... 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 Queste sono belline, mi piace. Allora... Come... 做 subito. In pezzi. wearingito. Grazie a tutti. Vediamo com'è questa macchinina, come si guida. La G-Sniper 2008 se ne è andato così, ci ha abbandonato. La G-Sniper 2008 se ne è andato. La G-Sniper 2008 se ne è andato. La G-Sniper 2008 se ne è andato così. 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 Devi concentrar tantissimo a questo gioco. La G-Sniper 2008 se ne è andato così. 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 La G-Sniper 2008 se ne è e anche un poteccatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 kennừa. Ciao. Grazie. 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 Vi retegal policy. vai dammi il tuo nick di epic ok spero che sia di quello di epic fbi fbi open no ho scritto qualcosa di sbagliato sono sicuro che è così si sicuro che è così copia incolla no non è l'account di epic overk questo non è l'account di epic mi serve l'account di epic se non è l'account di epic non possiamo giocare insieme eh no non è questo sennò ti aggiungeva prova ad aggiungermi tu non è che hai scritto qualcosa male sei sicuro trattino basso trattino basso trattino trattino non è che hai scritto qualcosa di sbagliato tu il mio lo vedi si c'è scritto qui prova ad aggiungermi te se è da se è da qui ecco questo è il mio niente ma da dove giochi da pc o da console se giochi da console o c'è l'account epic registrato o non vanno bene quegli altri devi evitare proprio l'account di epic se ce l'hai correlato con qualche eh se giochi da ps4 devi controllare se sotto al nome tuo ci hai collegato l'account di epic se non hai collegato l'account di epic non possiamo giocare insieme eh ancora no dobbiamo aspettare a febbraio a febbraio quando ci sarà il crossplay universale con gli account di epic e ciccia no con gli account di rocket league scusa no di epic proprio con l'account di rocket league potremmo giocare insieme però se tu hai l'account colorato insieme ok ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti